Vedevo sto gioco qua che è tipo 48.000 spettatori Ho cliccato Contraband police, fermiamo il cattivone alla frontiera ragazzi Alve Posso avere i suoi documenti? Grazie Allora Data di scadenza 16 dovemmo essere 1981 Vaido fino a... no, rifiutato Sta facendo un grosso errore Ma lei è pazzo Si faccia avanti signore Salve basettone Uh, qua mi sa che abbiamo tanto da controllare BQ Albarak Data di nascita del 1950 13 aprile 1981 La data di scadenza è sbagliata Lei puzza tantissimo, lo sa? Non può entrare, non è lei Perché non è lei Nella foto Non è lei E il suo passaporto è scaduto Entra, si neve là i coglioni Forza, veloce Allora Questa carretta, via Si afferma qua lei Massimova Delinquente Si sta cagando sotto Ragazzo Ah, piangi eh Guarda quanta droga Mamma mia quanta cocaina Lei è in arresto Ha diritto di rimanere in silenzio Non me lo ricordo più Lei è un criminale Ma che, qualsiasi cosa dirà Sarà utilizzata contro gli dati del tribunale Ha diritto di un avvocato Un ufficio Se la patata non è Non mi ricordo più, raga Facciamo un controllino Ok Ah, 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 ah Ai, 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 ai Comerci di contrabando Lasci stare il piccolo E prenda questi soldi Uh, mi sta offrendo Del denaro Quanto mi sta offrendo? Lei mi sta offrendo Dei soldi per caso? Non credo che lo farò Eh mo? Che cosa abbiamo trovato? Della tanica e dell'alcol? E lei mi stava corrompendo per caso? Eh Lei in arresto amico Forza Via Via dai coglioni Allora Khalil Bayrat Che faccio a ispezionarli? Dove che fai furbo? E zio Oi, oi, oi Cosa abbiamo trovato qui? Delle armette? Eh Oh, oh Eh mo? Ehi, 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 ehi C'è la veicola Forza Non è top Che coglioni Faccio su Patric Acrobrotai Si, lo restituisco Non si preoccupi Questo è quello che parte, raga Questo è quello che parte Che cazzo agitando Ai Furga Che c'è ci faccio Non faccio Fine di puttana Sali, sali, sali Come faccio a fermarlo, raga? Fermo, accosti il veicolo F***ing bastard Codo Una telefonata importante Suona e una lì Si puntata, caro Caro Hai zomani, caro Prossimo veicolo Ok, allora Prendiamo gli archiei Ok, archiei Vediamo se è della roba Archiei Ok Io questo Quasi quasi Chiederei anche magari di Magari becchiamo anche della roba Tanto comunque non entra Magari becchiamo della roba Vedi Questo è sotto attacco Ma che cazzo mi stai a dire Aiuto Ti stanno attaccando Aiuto Ma raga Ma io l'ho hitting test Però porto due Aiuto Granata Stoppati I soldi No Maiale falso Raga Sotto male Fissa a te Raga C'era il maiale falso Andando al veicolo Forza Veloce Posso girare il cazzo Metta là Coglione Stanno scherzando Non le nascondi All'altra sigaretta Stronco Guardale In arresto Cazzo Lei qui Mi sa che ha bisogno Di scendere un attimo Dal veicolo Signore Eccolo Eccolo Raga Ragazzi Ti buco le gomme Madonna Cioè Vieni di puttana Vieni qua Vieni qua Ma se mi impaccio Coglione Da male C'è ancora un po' Da guardare 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 Questa 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 ma l'avevi ben nascosto stronzo tutto bastardo ah ma guarda che sono anche lì porca puttana quante sigarette minchia raga che carico questo è un gran carico raga bel lavoro cazzo fatti 5 gabbo minchia super blitz del commissario gabbones lei ha proprio una faccia da finto innocente signore patmaca ieri di rali date di nascita 20 maggio 81 12 maggio 81 un giorno di lavoro e non può entrare il signore lo sa guarda che brutte 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 gomme come a terra signore finestrini come sono perché manca anche i carorti mancanti la carrozzeria è anche abbastanza danneggiata non è messo benissimo il motore ok lei non può entrare perché è un giornalista via Questa giornata Pici per me Vai via dal cazzo Forse Oh Cosa abbiamo finito Via Che giornata Hai capito che giornatine